Con quello che diceva Bombardieri, capisco la necessità di tenere ancora, diciamo non è ancora tutto chiaro, si è perso molto tempo per quanto riguarda il piano che devi mettere in piedi, però è chiaro che tu devi coinvolgere, perché? Perché la grande scommessa qual è? È quella di legare gli investimenti che abbiamo con le riforme. Se mancano le riforme gli investimenti rischiano di diventare soltanto il debito cattivo di cui si parlava prima. Ma per un motivo molto semplice, noi abbiamo avuto rispetto ad altri paesi una situazione un po' più complicata. Abbiamo avuto una crisi che già c'era del nostro sistema produttivo, su cui si è inserita un'altra crisi, che è questa del Covid. Quindi è chiaro che da una parte per noi, e non per nulla abbiamo avuto più soldi dell'Europa, il compito è più difficile, ma può essere anche una grande occasione se viene sfruttata. Perché se tu vai a risolvere attraverso le riforme quegli elementi di difficoltà strutturale, quei limiti che avevamo già prima, probabilmente tu hai la possibilità di rilanciare un paese che dal punto di vista di situazione di crisi ha anche un sistema economico abbastanza reattivo, che può reagire prima degli altri, perché non abbiamo grosse dimensioni. Quindi le nostre medie e piccole imprese hanno la possibilità di ripartire subito. Però per farlo proprio tu devi creare un coinvolgimento e devi farle quelle riforme. Per alcuni versi le due cose vanno insieme, se non fai quelle riforme noi rischiamo di buttare dei soldi. Ma questo governo in particolare non ha consultato la stanza o non ha avuto il tempo o anche l'altro governo? Diciamoci la verità, questo governo si ritrova e si è inserito su qualcosa che già doveva essere portato a termine. Noi quando è partita la crisi, già si diceva che doveva essere pronto il piano e via dicendo, poi abbiamo scoperto che il piano non era pronto. La crisi è stata molto sul piano. È stato sul piano, ma una delle ragioni della crisi è perché abbiamo fatto gli stati generali a giugno, ma poi quando siamo arrivati a dicembre stiamo nella stessa situazione. Quindi è chiaro che da questo punto di vista è arrivato sia la necessità di andare avanti con i vari dossier e contemporaneamente di inserire degli elementi nuovi per quanto riguarda le riforme, perché è chiaro che le riforme che vuoi fare, se tu hai una grande maggioranza, potrebbero essere anche più strutturali di quello che noi immaginavamo, con una maggioranza che invece ha un colore politico, lo hai visto nel dibattito, che c'erano diverse detti e c'erano anche dei veti. Il problema è che il dibattito si sposta comunque dentro il governo. Però sai, una maggioranza larga permette al governo anche di avere una maggiore autonomia. Il problema però che deve fare è che deve coinvolgere, Tutti quanti e anche le parti sociali. I bombardieri, ieri avete chiesto anche...